Lo Sport in collaborazione con C'è un solo posto dove trovare tutto per l'edilizia Sacchi Vittorino a Mandrogne Materiali edili, piastrelle, arredobagno, serramenti e un professionale centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati Sacchi Vittorino, dillo al tuo vicino Giro di boa per il cremolino atteso ora nel campionato di Serie A di Tamburello da una serie di trasferte in notturna che verranno giocate sul campo del Caglianetto in provincia di Asti dotato di un adeguato sistema di illuminazione ma se emigrare nell'Astigiano non dispiace del tutto al presidente Barazzano perché si calcherà lo sferisterio dei pluricampioni d'Italia auspicando quindi una grande partecipazione di appassionati è pur vero che gli uomini di Surian soffrono del cosiddetto mal di trasferta quello che finora non ha consentito loro una posizione adeguata in classifica trovandosi a sole quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione il copione negativo si è ripetuto domenica scorsa in Trentino contro il mezzo Lombardo che si è sbarazzato degli Alessandrini con poche difficoltà e in due soli sette complice una partenza ralentatore degli ospiti che nonostante uno scatto d'orgoglio nel proseguo della partita non sono più riusciti a recuperare lo svantaggio abbiamo commesso molti errori continuiamo a sbagliare in momenti chiave ha commentato Patron Bavazzano per fortuna anche le inseguitrici sono state sconfitte pertanto il vantaggio di più quattro rimane invariato bisognerà urgentemente recuperare punti e superare il mal di trasferta per arrivare a settembre in zone più tranquille proprio a settembre infatti è previsto il ritorno nello sferisterio di casa Nel 2018 la detrazione fiscale per la sostituzione degli infissi è stata ridotta al 50% Gol da Seramenti sino a fine anno ti garantisce comunque un risparmio del 65% vuoi sapere come? 0143 88 29 13 Gollo Seramenti gli specialisti negli infissi a Silvano d'Orba, località Caraffa e ad Aquiterme in corso di visione Aqui 27 seramentigollo.com aperti anche sabato mattina